Test più che triplicati, nuovi positivi che salgono di un terzo. La variante Delta si fa sentire anche in Toscana, ma con la ripresa dei tamponi il tasso dei nuovi positivi torna a crollare. Purtroppo, però, secondo gli esperti, si può già intravedere all'orizzonte addirittura una terza ondata da coronavirus. Vederla guardando i positivi giornalieri è molto difficile perché i numeri sono ancora bassi, ma ci sono strumenti che possono mostrare la nuova ondata in anticipo, spiega Roberto Spighi, membro del Comitato di Crisi che dal marzo dello scorso anno analizza l'andamento della pandemia. L'analisi si basa su un metodo ampiamente utilizzato in statistica, detto dei residui, che permette di vedere subito se sta succedendo qualcosa di inatteso. Non è il momento di spaventarsi, ma di mettere in atto tutte le contromisure necessarie a sbarrare il più possibile la strada alla diffusione della Covid, dice la nazione il professore. Al momento l'inalzamento maggiore si registra nelle regioni del nord. La Toscana non fa eccezione, anche qui si nota che da pochi giorni qualcosa sta partendo, in modo lento, ma sta variando l'andamento della curva. Rispetto a luglio dello scorso anno la ripartenza sembra più rapida, inoltre inizia da un più alto numero di positivi giornalieri, circa 1000 a livello nazionale, contro 100 dello scorso anno. Va sottolineato che a un aumento dei contagi potrebbe non seguire un altrettanto importante aumento di ricoveri e di decessi, grazie soprattutto alla maggiore protezione offerta dai vaccini.